Musica Francesco Molise un anno dopo il 5 luglio del 2014 la visita in regione del Papa in ascoltati gli appelli del pontefice sul lavoro secondo la UIL a Campobasso il comune ricorda l'evento con il parco 5 luglio nell'area dell'ex Romagnoli Incidente mortale a Castellino vittima un uomo di 62 anni Carmine Ruscito ha perso il controllo dell'auto su cui viaggiava scontrantosi con un fuoristrada inutili soccorsi Assessori congelati fino al bilancio a Disernia continuano a far discutere le nuove nomine in giunta il sindaco Brasiello prende tempo e rivia tutto a dopo l'approvazione del documento di previsione contabile dell'Ente L'estate molisana entra nel vivo sole e caldo africano su tutta la regione pienone sulla costa ricco il cartellone dei concerti nell'entroterra e tempo di sagre Edizione della domenica del nostro telegiornale Ben trovati in apertura parliamo della visita un anno fa di Papa Francesco in Molise per ricordare quella importante storica giornata dove il Pontefice ha celebrato la messa e accolto i fedeli di tutta la regione L'area dell'ex stadio Romagnoli è stata a lui intitolata Da oggi si chiamerà Parco 5 luglio Sentiamo Marta Martino Il caldo è lo stesso di un anno fa Il luogo pure L'ex stadio Romagnoli a Campobasso dove il 5 luglio dell'anno scorso si sono riversati i fedeli o i semplici cittadini da tutta la regione per accogliere Francesco e il Papa degli Ultimi dove il Molise ha vissuto una giornata di piena esaltazione e gioia adesso cambia nome per ricordare per sempre l'evento Parco 5 luglio Questo è il nome scritto sulla targa posta proprio alle spalle del luogo dove la messa è stata celebrata Quest'area che speriamo presto di far diventare Parco Urbano così come da indirizzi ricevuti dal Consiglio Comunale e sarà speriamo un'area attrezzata e un ricordo di quell'evento straordinario storico di un anno fa pieno di contenuti Presenti i rappresentanti delle istituzioni che hanno reso possibile con sforzi unitari la riuscita di quell'evento evento che a distanza di un anno ha reso più unitari e più forti molisani ha detto Monsignor Brigantini perché ha rafforzato la loro identità di popolo che deve trovare il coraggio di essere protagonista e di esprimere le proprie idee quando un popolo ha un forte senso della sua identità può anche trovare la soluzione ai suoi problemi senza aspettare aiuti esterni Quando un popolo ha identità ha anche capacità di guardare il futuro investe sulla gam non aspetta il mago di turno che venga da fuori ma progetta con le forze che abbiamo con le responsabilità mettendo insieme Quel giorno il Molise è riuscito a dare una splendida immagine di sé e una grande prova di ciò che sa fare ha continuato Brigantini Le forze locali ci sono e sono tante mettendole tutte insieme si può raggiungere il top Coraggio, speranza, solidarietà le parole che Papa Francesco ha consegnato ai molisani soprattutto ai giovani un invito che purtroppo dopo quel giorno si è andato ad infrangere contro la realtà quotidiana di disoccupazione e disperazione visto che l'invito del Pontefici a creare le condizioni di lavoro perché senza lavoro non c'è dignità paiono cadute nel vuoto nonostante i proclami di parte della politica regionale che tutto va bene e l'occupazione aumenta le aziende chiudono, i cassi integrati e disoccupati aumentano e gli interventi della Regione per il lavoro sono così pochi da essere inesistenti lo dicono i numeri, lo dicono i sindacati ma d'altronde lo ha ammesso anche il Vice Presidente Petra Roia nel suo discorso il Papa ha scelto il Molise tra i suoi primi viaggi da Pontefice perché è la periferia d'Italia così come ha scelto l'Albania perché è periferia d'Europa parole di un rappresentante della Regione Molise che pare non essere disturbato di far parte di una classe politica che condanna la sua terra ad essere una periferia del mondo forse un giorno Papa Francesco tornerà in Molise e magari chiede racconto di ciò che è stato fatto dopo il 5 luglio 2014 e la speranza è una sola che nessuno gli sappia indicare solo questa targa impolverata Cambiamo argomento, riunione a Campobasso il coordinamento regionale di Fratelli d'Italia alleanza nazionale allargato anche ai simpatizzanti è stata l'occasione per un confronto e per il dialogo sui temi dell'attualità politica bocciati i governi nazionale e regionale Fratelli d'Italia N punta alla ricostituzione del centro-destra e propone le primarie di coalizione Una realtà infermento testimoniata dall'attivismo della base del partito e dai tanti simpatizzanti Le parole sono del portavoce regionale di Fratelli d'Italia Molise Filoteo Di Sandro a margine del coordinamento regionale convocato per discutere ed individuare la linea politica della formazione di centro-destra analisi della situazione politica regionale e nazionale con le diverse emergenze ricostituzione del centro-destra e Molise e gli argomenti dibattuti Duro e critico il giudizio sul governo nazionale soprattutto su quello regionale giudicato da Fratelli d'Italia immobile ed assillato da beghe interne lontano dal territorio e dagli amministratori in grado di far impennare la disoccupazione in un momento economico di grave crisi Per quanto riguarda l'aspetto organizzativo ha detto Di Sandro il partito sta lavorando bene ricucendo lo strappo con le altre formazioni di centro-destra e con la società civile L'obiettivo, secondo il portavoce regionale di Fratelli d'Italia è quello di ricostruire una solida casa comune una coalizione forte in grado di tornare al governo non solo della regione ma anche dell'Italia Per questi obiettivi ha concluso Filoteo Di Sandro occorrono condivisione dei metodi di coalizione e programmazione unitaria delle politiche con uno strumento importante le primarie di coalizione per individuare l'allenatore di una squadra coesa in grado di affrontare e vincere le sfide future Parliamo adesso di cronaca dell'incidente mortale nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada provinciale che collega Montagano con Castellino del Biferno e Petrella Tifernina a perdere la vita un uomo di 62 anni Carmine Ruscito ha perso il controllo dell'auto sulla quale stava tornando a casa Castellino in mezzo a circa un chilometro dal bivio per il paese si è scontrato con un fuoristrada e abbattuto contro un muro ai lati della carreggiata per l'uomo non c'è stato nulla da fare morto sul colpo sul posto i vigili del fuoco e il 118 Parliamo adesso della situazione al comune di Senna dove le nomine dei nuovi assessori sono state congelate dal sindaco Brasiello se ne riparlerà dopo l'approvazione del bilancio dell'ente Enzo Di Gaetano Situazione di pausa al comune di Senna dopo che il sindaco Luigi Brasiello ha deciso di congelare con un decreto notificato ai due assessori esterni l'allargamento della giunta di Palazzo San Francesco in attesa del parere chiesto al Ministero dell'Interno sulla rappresentanza delle quote rosa previste dalla legge del Rio i malumori nella maggioranza di Palazzo San Francesco non si sono affatto placati tanto che alcuni consiglieri di maggioranza durante il Consiglio Comunale in programma giovedì prossimo sono pronti a dire chiaramente come la pensano su questa vicenda del resto la decisione di Brasiello di nominare due assessori esterni escludendo da questa scelta i consiglieri eletti nella sua coalizione ha lasciato l'intera maggioranza i partiti con l'amaro in bocca ma oltre alle critiche si profilano all'orizzonte anche azioni politiche ben precise infatti almeno due o tre consiglieri del centro-sinistra secondo quando trapelato nelle ultime ore sarebbero pronti a scegliere la via dell'appoggio esterno al sindaco riservandosi di volta in volta di votare o meno i provvedimenti che l'amministrazione porterà in consiglio tra questi ci potrebbe essere anche quello delicatissimo riguardante il bilancio di previsione che dovrà essere approvato entro fine mese se poi a ciò si aggiunge anche la posizione critica della lista SEL-PSI che ha preso le distanze dalla maggioranza risulta chiaro come il rischio da parte del sindaco di non avere i numeri per approvare il bilancio sia tutt'altro che trascurabile in una situazione così difficile nella quale i malumori sull'allargamento della giunta si intrecciano con la questione del bilancio di previsione in molti sono convinti che il primo cittadino deciderà di affrontare una questione alla volta la priorità dunque in quel caso verrà data sicuramente al bilancio in quanto dovrà essere discusso anche il tema dell'abbassamento della pressione fiscale promessa quest'ultima fatta dallo stesso Brasiello l'allargamento della giunta potrebbe quindi rimanere congelato fino all'approvazione di questo documento contabile anche perché andare a rimodulare nuovamente l'esecutivo prima di quella data rischierebbe di creare altri mal di pancia in una maggioranza che è già traballante senza che a quel punto ci sia più alcuna garanzia sul voto favorevole al bilancio l'estate entra nel vivo in Molise sulla costa prima domenica di luglio si registra il tutto esaurito intanto è arrivato l'atteso caldo africano Manuela Iori primo weekend di luglio e sulla costa si registra il Gran Pienone l'estate ha fatto ufficialmente il suo debutto e anche qui è arrivata l'attesa ondata africana con affa e temperature molto alte che resisteranno anche per i prossimi giorni non si rinuncia alla tintarella in tanti preferiscono passare l'intera giornata al mare state giocando a carte? sì sì passiamo un po' di tempo da dove venite? da Rotello che cosa ascoltate? Maria Salvador la canzone dell'estate sì è anche un modo per stare in compagnia tra amici passiamo un po' il tempo hai appena fatto il bagno com'è l'acqua oggi? è molto calda bello il mare qui a Termoli? sì sì tutto pulito da dove venite? da Santa Croce di Magliano come passate oggi la giornata? un bagno in acqua prendiamo un po' di sole però dobbiamo stare anche all'ombra perché fa troppo caldo sei qui con le amiche oggi? sì da dove vieni? da Rotello come passate la giornata oggi? mangiando vi tenete in forma pure in spiaggia? ci proviamo fate flessioni? più o meno un po' di workout da dove venite? Campobasso un paesino vicino Campobasso come hai passato la giornata oggi? beh bagnetto spuntino un po' di allenamento un po' di sole esatto e donne soprattutto e donne soprattutto da dove venite? da Poggia siamo vicini però siete ben attrezzati avete lettini? sì ombrellone per forza con questo caldo è inevitabile le comodità ci vogliono per forza avete portato pranzo al sacco cosa si mangia oggi? no è leggero cetrioli leggero perché torniamo a casa e pranziamo a casa abbiamo comunque la casa qui sul posto ma tanto vi piace Termoli? tantissimo anche perché io la conosco da anni quindi la consigliate come meta? è una bella zona sì tranquilla sì sì tutto sommato è una bella zona anche come mare pulito e ci troviamo bene qualche lamentela non è mancata per l'assenza dei parcheggi e per i ritardi con il servizio di navetta che collega il parcheggio dal cimitero al lungomare come si sta oggi al mare? bene per questo stiamo qui perché si sta bene finalmente è bel tempo non c'è vento un po' di vento c'è però non guasta peccato che il sistema dei parcheggi qui a Termoli è sempre peggio l'amministrazione comunale dovrebbe darsi da fare più per favorire i parcheggi anziché per ridurli perché il turismo il turismo locale è un turismo non stanziale si viene qui con la macchina e si torna a casa poi il pomeriggio per cui ci vorrebbe una politica dedicata proprio alla gestione dei parcheggi il pullman la navetta era pieno di gente abbiamo aspettato oltre i dieci minuti perché poi non arrivava per cui i tempi poi non vengono neanche rispettati secondo me il senso unico certo perché poi non riesci a trovare comunque parcheggio qui sulla spiaggia sul lungomare sei costretta a rifare completamente il giro è assurdo e c'è anche chi si fa 5 km al giorno camminando sul bagnasciuga senza un accenno di fatica passeggiatina? eh sì ci vuole si abitudine tutte le stavle e domenica insieme la spiaggia è nostra da dove venite? siamo di Termoli io di Guglionesi veramente quanti chilometri macinate al giorno? 5 km vi abbronzate anche? sì sì approfittiamo proprio per questo e poi un bel bagno anche a fine passeggiata e poi un bel pranzo e stasera si va a ballare e restiamo a Termoli perché sarà il moto peschereccio Pegasus dell'armatore Tonino di Polito a portare la statua di San Basso in processione a mare il prossimo 3 agosto l'imbarcazione è stata sorteggiata ieri sera durante la tradizionale cerimonia sul sagrato della cattedrale di Termoli e cambiamo argomento a discorso come sempre grande apprezzamento il campo scuola organizzato su Monte Patalecchia dai volontari della protezione civile di Castelpetroso la formula è collaudata durante il campo scuola non solo ci si diverte in compagnia ma si imparano tante cose utili dal primo soccorso all'educazione ambientale dal riciclaggio alle arrampicate dalla prevenzione degli incendi alla ricerca di persone scomparse giunta la sua decima edizione l'iniziativa promossa dall'associazione volontari della protezione civile Don Nicola Canzona di Castelpetroso si chiusa anche quest'anno con un bilancio confortante sul Monte Patalecchia c'erano quasi 40 ragazzi di età compresa tra gli 11 e 16 anni è una grande soddisfazione un'attività iniziata quasi per gioco dieci anni fa ma che con il tempo è cresciuta e ha raggiunto grandi traguardi ed è riuscita dopo dieci anni a coinvolgere in questa attività tanti enti dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco al Corpo Forestale dello Stato o il Soccorso Alpine solo per citarne alcuni e questo ha contribuito a fare del nostro campo una vera e propria esperienza di vita che i ragazzi affrontano e vivono con consapevolezza e con grande entusiasmo le prove pratiche insieme agli uomini della forestale del Soccorso Alpino dei Vigili del Fuoco hanno reso ancora più entusiasmante l'iniziativa questo è il quinto anno che collaboriamo con l'associazione Don Nicola Canzone Castelpetroso e in particolare quest'anno è venuto anche a trovarci il nucleo cinofrio della direzione regionale dei Vigili del Fuoco del Molise qui ci sono alcuni operatori con i loro cani e stiamo simulando in questo che è un scenario ottimo per una ricerca persona appunto la ricerca di qualche persona dispersa che si possa essere dispersa per funghi per raccolta legna o qualcosa di simile molta attenzione è stata prestata anche all'utilizzo delle risorse evitando sprechi e riducendo al minimo la produzione di rifiuti abbiamo spiegato loro come si può vivere senza produrre troppi rifiuti abbiamo spiegato loro come differenziare in maniera giusta i rifiuti e quindi qual è il corretto approccio con la natura tra l'altro questo è un campo a rifiuti quasi zero veramente un bellissimo esempio quella dell'organizzazione della protezione civile di Castelpetroso perché i ragazzi hanno in questi giorni mangiato con stoviglie lavabili anziché l'usegetta quindi un bel segnale concreto di come si può approcciare alla natura in maniera sicuramente più sostenibile l'entusiasmo dei protagonisti dice tutto sul successo del campo scuola è stata un'esperienza molto bella e ho imparato tante nuove cose e ho anche imparato a cavarmela da solo abbiamo avuto occasione di imparare cose che ci servono quotidianamente abbiamo anche imparato a cavarcela da soli è anche un'opportunità per stare più vicini al verde alla natura che stare in casa invece con i telefonini l'amministrazione comunale di Campobasso l'iniziativa del consigliere delegato al verde pubblico Antonio Molinari ha provveduto alla pulizia la sistemazione delle aiole e delle feriere del centro cittadino da Palazzo San Giorgio anche un appello ai cittadini affinché abbiano cura del verde e delle piante ornando anche finestre e balconi delle abitazioni Molinari ricorda anche la delibera della giunta comunale che ha affidato la gestione di 80.000 metri quadri di aree verde cittadina ad associazioni comitati di quartiere alla cooperativa Laboratorio Aperto e torniamo a parlare di estate o meglio degli appuntamenti dei cartelloni estivi che sono stati approntati nei comuni molisani nomi di richiamo per diversi concerti dagli incognito a Sergio Cammariere da Bollani a Max Gazzè vediamo alcuni dei concerti soprattutto quelli della provincia di Campobasso previsti a luglio agosto e settembre Tonino Danese in questi giorni i comuni molisani dai più grandi ai più piccoli stanno presentando i cartelloni degli eventi estivi rievocazioni sagre teatro cinema cultura e ovviamente i concerti musica perché l'estate ha sempre la sua colonna sonora fatta di concerti anche quest'anno non mancano eventi con grandi nomi non solo del panorama nazionale vediamo alcuni degli eventi soprattutto in provincia di Campobasso dall'11 al 19 luglio l'ormai classico appuntamento con il festival Jazz in Campo a Campo di Pietre per quest'undicesima edizione anche a San Giovanni in Galdo guest star Stefano Bollani con il suo tributo a Frank Zappa il 18 luglio e poi ancora Stefano Di Battista Roberto Gatto Peter Erskine e una serata dedicata a Pino Daniele ci sarà Ernesto Vitolo suo storico collaboratore a Montenero di Bisaccia il 13 agosto in scena in Napoli centrale con James Senese che in Molise è di casa evento di punta Lady Lang Jazz Festival ormai appuntamento di richiamo mondiale che si tiene dal 1991 a breve il cartellone sarà reso ufficiale concerti e manifestazioni non solo a Monteroduni cuore della prestigiosa rassegna a Termoli il 2 agosto sul palco ci saranno gli incognito gruppo britannico pioniere dell'acid jazz sempre a Termoli il 5 agosto l'elegante raffinata musica di Sergio Cammariere a Campomarino Max Gazzè il 10 agosto ma anche Enrico Ruggeri il 25 luglio Rocco Ant il 18 agosto la banda Bardò il 31 luglio e Alexia il 15 agosto tanti artisti di richiamo anche nelle feste dei comuni dell'entroterra gli Aprila Class saranno il 25 luglio a Yelzi e il 14 agosto a San Martino a Riccia il 15 luglio i Sud Sound System e il 26 settembre i Nomadi a Boiano si esibirà Annalisa il 26 agosto e Umberto Tozzi il 20 agosto a Yelzi per la festa di Sant'Anna invece il 26 luglio Paolo Belli a Cerce Maggiore dal 31 luglio al 2 agosto 15esima edizione del Baloma Bikers il festival dei motociclisti con nomi internazionali sul palco come Twin Dragons Pino Scotto Blaze Bailey Phil Campbell e Gus G a Carovilli invece è Toys Orchestra per il festival Nuvole Chitarre e Note E' uscito il secondo album del musicista molisano Giuseppe Moffa dal titolo Terribilmente Demodeo una raccolta di brani della tradizione popolare mescolati a canzoni inedite ed arrangiati in chiave sperimentale Silvia Valente è da pochi giorni è da pochi giorni sul mercato l'ultimo disco del cantautore riccese Giuseppe Moffa meglio conosciuto come Spedino un album che dà seguito al percorso intrapreso nel 2010 quando il musicista insieme ad un amico antropologo cominciò una ricerca nell'ambito della musica popolare si chiama Terribilmente Demodee e si presenta come una raccolta di brani tradizionali e canzoni inedite è un disco completamente in dialetto diciamo che il punto di partenza è la musica tradizionale contamino diciamo questa musica molisana con tantissime altre musiche che vanno dal blues alla musica classica come la musica etnica di altri territori chitarra fisarmonica e buffù sono solo alcuni degli strumenti suonati da Spedino ma è alla zampogna che il musicista dedica a due brani interamente strumentali una decina di anni fa mi sono innamorato di questo strumento ho iniziato un giorno per gioco me ne sono innamorato completamente e come faccio con tutto il resto della musica che scrivo ho dato un approccio sempre moderno tradizione e contemporaneità quindi gli ingredienti principali della musica di Giuseppe Moffa che mescola con armonia in nome di quella contaminazione di generi che caratterizza la sua ricerca musicale la contaminazione in me è proprio il tratto credo il tratto principale della mia produzione credo di avere una particolare attenzione nel 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 fonderli nel senso che cerco di non far prevalere uno su un altro la tradizione è un qualcosa che si evolve continuamente è sempre a passo con i tempi la zampogna stessa non è nata come la vediamo adesso è frutta di tantissime evoluzioni il disco è arrangiato da spedino con la supervisione del pianista premiano di Biase insieme ai suoi immancabili compari e impreziosito dall'ospite di eccezione Massimo Giuntini dei Modena City Rambles Giuseppe Moffa sarà in concerto a Riccia il prossimo 6 agosto in occasione del Riccia Folk Festival e questa è una piccola anticipazione seconda giornata oggi della Ottava Sagra Dufunna Teglie a Yeltsi nell'area dello stabilimento Metal Zilembo incontrata Colle del Giudice ottimo riscontro per la prima serata di ieri Gusto, divertimento e tradizione tutto questo per l'Ottava Sagra Dufunna Teglie a Yeltsi negli stabilimenti della Metal Zilembo bagno di folla per le centinaie di visitatori che cogliendo l'occasione di una bella e calda serata estiva hanno assaggiato il famoso piatto della tradizione yelsese fatto con salsicce cipolle pomodorini e peperoni musiche celtiche non solo hanno animato la serata con i rota temporis che con le loro cornamuse hanno riproposto brani del genere medieval folk rock nella tarda serata poi l'atteso concerto di Gio Valeriani che con i suoi ritmi latini e coinvolgenti ha fatto ballare e divertire i presenti soddisfazione da parte della famiglia Zilembo che da ben 8 anni porta avanti la festa Dufunna Teglie la Sagra prosegue anche nella giornata di oggi questi due giorni sono due giorni di pieno lavoro anche se giustamente non sono solo oggi e domani pieno lavoro ma partiamo già dai mesi scorsi abbiamo iniziato a vedere che cantanti chiamare come organizzarci per riuscire al meglio queste due sere sono ok a parte tanto lavoro e tanto stress e impegno ma tanto divertimento io e la mia famiglia siamo molto legati alla nostra terra a questa attività che mio padre 30 anni fa mi ha messo su e quindi diciamo con tanto orgoglio e piacere svolgiamo questa Sagra la Sagra prosegue a Ielsi anche oggi l'evento gastronomico che si svolge nell'area dello stabilimento Metal Zirembo nel pomeriggio il momento clou dell'incontro a Pecar con spettacolari esibizioni di bolidi su tre ruote in serata musica dal vivo con etnettica e ovviamente la Sagra gastronomica prima di chiudere vi ricordo un appuntamento di Telebulise la diretta a partire dalle 17 della chiusura dell'anno giubileo celestiniano da Isernia indetto in occasione della visita appunto un anno fa di Papa Francesco anche ad Isernia parteciperà alla celebrazione religiosa il cardinale Ulle e la diretta per noi sarà curata da Enzo Di Gaetano con questo appuntamento chiudiamo il nostro Tg grazie a voi come sempre per aver scelto l'informazione di Telebulise e buon proseguimento di domenica Grazie a tutti Grazie a tutti